stop grazie un applauso ehi devo dire che posso dire vai è bellissimo qua qua fuori è bellissimo beato tra le occhi come è che sta volando minchia su me è ribotta minchia io non volevo rompere un rametto l'ha rotto ma come mai? non c'è non ne ho rotto no grazie che ci posso fare? che strato pigiato tipo quella senti un po' 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 potremmo farla così la scena di malamori si cosa va sull'arbre? no ti ripi tipo delle gambe buo azione facciamo fammi le bone va qualcuno ha su 200-200 qualcuno ha potremmo lasciare le mani stop non forse non si vede controlla la ripresa mi sali di nuovo fa meno un'altra laterale motore laterale oidi porca droga devo fare il backstage sì vabbè io sono in motore laterale non si vede che sono vabbè giusto per vai azione non parlare sei segretaria di edizione gira di qual è il tuo lavoro? ottimo un signore molto gentile ci ha regalato ci ha regalato dei limoni è bellissimo ci ha regalato dei limoni e delle arance le arance non so se li vedete sono qui dietro sì stamattina abbiamo cominciato tardi e ci siamo visti alle 8 ma c'è da dire una cosa molto importante signori miei questa mattina abbiamo visto un asino appena nato dinevi voi chi è che può dire di aver visto mai in vita sua un asino appena nato nato da ben due ore solo due ore e smettila smettila quindi diciamo che questa mattinata nonostante abbiamo perso due orette di lavoro perché abbiamo cominciato due ore dopo abbiamo visto un asino appena nato che è una cosa fantastica ah card 2 piena quindi dovremmo tornare in macchina a prendere le card perché nessuno se le portate giusto? ma io devo ricominciare a numerare sì no io le card ce le ho ma mi sa che non ce ne è lì quindi usiamo la card dell'altro ma per fortuna io ho portato il pacchetto delle card e infatti l'avevamo uscita il pacchetto delle card non voglio capire la caduta parte 1 l'abbiamo fatta parte 1 parte 1 l'abbiamo fatta ora stiamo facendo la parte 2 la caduta parte 2 questo ragazzi è quando il lavoro si comincia a capire perché nessuno ci pensa e ci devo pensare io alle cose ma se sono là qualcuno ci deve pensare alle card certo qualcuno sempre capito cosa dico? che quando arrivo qua a terra mi guardo subito qua e mi fa male no? mi brucia che faccio quando arrivo a terra? guardo guarda dove sono arrivata si ti guardi guardati il braccio stop è venuta? eh? cioè ti è venuta ti hai fatto male? ti hai fatto male? ti devo fare male con la camisa? vabbè poi me la rifai un'altra buona questa intanto sono fatta male vuol dire ma che cosa non ti piace? dimmelo Cadi in un posto dove Dimmi dove devo cadere Cadi troppo avanti rispetto a dove riprendo io Devo riprendere meglio Ah quindi non sono io il problema Mi chiede schifo Ma passa Ma li vuoi buttare? No a massimo strappi col pezzettino E li fai col ginocchio di cuore La moda Primo piano lei dolorante Ho scritto piano lei dolorante Brava Guarda il braccio Sempre coperto dal ginocchio Tienilo basso Ok Come Federico dice stop ti puoi fermare Ottimo Ecco qui il risultato E ora la premona della vostra Perfetto Ma perché tutto diventa grottesco quando parli tu? Noi sangue vero non ne possiamo fare Mi piacete tantissimo Ma sappiate che c'è un problema Mi piace Mi piace Mentre dice Ecco la fotocamera Noo Noo Tiara Tiara facendo i video Questo è tutto backstage Vabbè arriva tu Lei arriva E tu fai Fetti nuovi no? Grazie Anzi facciamo inizio a vedere Tanta Iniziamo al più Mica da rossa Brava 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 Vieni Ammari È che si sta esercitando Si sta esercitando Quindi Un lottazione Un lottazione Un lottino Silenzio Attenzione Un lottazione Un lottazione Un lottazione Un lottazione Oh Le magie Ho finito questo Questo si è fermato qua Per fare il bordello Per tutto il tempo È ripartito Appena hai Stato Stop Ma dai Ma l'altro audio Era più bello Tranquilli che si senta Nella Qua si guarda Basta Basta Ora mi metto a fare così Basta che non fai quella cosa Perché stiamo male Tutte le battute Devi stare così Come scusa Così Ok Non tendere quella mano Vabbè Comunque So via Aspetta un attimo Prova 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 Continua a lavorare Oh Mi fate lavorare Fanno uno Adesso Prova Tu ci rispetto Beh Io vado Ci vediamo Ma non devi ridere Però Dai Perché è una prova Non ti ho raccontato Una barzelletta Allora Ti è fatta male Stop Si stai scelando Al risale No È rogeria Si metta male Come vuoi Come vuoi piacere Sofia Vabbè Io vado Ci vediamo La prima parte Era buona No Io vado Ci vediamo Oddio Stop Ehm Vabbè Se non te lo devo Ripetere Che non devi ridere Ma comunque Prenditi più tempo Prova Tu Beh Io vado Ci vediamo No Perché Hai L'hai fatto La lotta perfetta Io vado Non era così Io vado Hai fatto il disastro La faccia Hai fatto Io vado Io vado Era perfetta Buona prima parte Vi faccio rifare Vabbè Io vado Ci vediamo Non lo so Era buona Non devi muovere gli occhi Come faccia non muovere gli occhi Se stai guardando lei Guarda lei Non fare tipo così Così strane Azione Vabbè Io vado Ci vediamo Buona Buona Azione Troppo avanti Stop Stop Allora Ti chiami Rosa C'è stato il passaggio Di quella macchina là Però Rosa non parlava In quel momento Che facciamo La teniamo Buona La come ripetazione Ti chiami Rosa Meglio di quando L'hai fatta Che ti prendono Ti fa riscaldamento Fare stretti Glielo devi dire prima Passetti Stop Stop Ravida e indolore Perfetto Ora cosa mi Sto 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 il braccio sanguinante è oggi questo per me non è una cosa di più normale hai visto? sei strana ma a te cosa vuoi? nulla stop laudia ci sei dove gli dai? ti metti la fusa ti metto